Voi sapete che quando il corpo ha freddo, perché un anziano ha freddo, e tiene una piaga, le piaghe da decubito, quelle piaghe non si chiudono mai. Perché? Perché nel corpo non c'è una buona circolazione del sangue, le piaghe non vengono isolate dal sangue, e quindi non si possono chiudere. Padre Piero era vecchio, aveva freddo, non aveva una buona circolazione del sangue, e le piaghe che c'erano, piano piano, si sono chiuse. Abbiamo qui il simbolo della risurrezione della carne. Carne morta, malata, piagata, che risorge, e la carne è piena, è vera. Le mani sono complete, come la persona che nasce con le mani complete. Il vero miracolo allora, dell'estima di Padre Pio, è la scomparsa, più che la comparsa. Ed è il grande miracolo che ci dimostra che dal nulla, da atomi, il Signore può far ricrescere la carne, la risurrezione della carne. E questo per me è una grande idea che ci consola, che la risurrezione sarà anche per noi.